Mai come quest'anno le malghe dell'altopiano si trovano di fronte a una serie di cambiamenti che rischiano di diventare epocali. Da una parte c'è la siccità che sta mettendo in ginocchio moltissimi alpeggi, dall'altra la presenza del lupo spaventa operatori e turisti e crea danni alla filiera. Ma la tradizione è saldamente radicata nell'area dei sette comuni dove l'alpeggio non è solo turismo, ma soprattutto presidio ambientale e perché no volano economico. La montagna ha bisogno di vivere e l'alpeggio è un modo per far vivere la montagna, farla vivere attraverso la produzione agricola, quindi il formaggio che diventa il prodotto principe della montagna, ma farla vivere anche attraverso il paesaggio, attraverso la fruibilità. Le persone hanno bisogno di avvicinarsi alla montagna, di conoscerla e di viverla, quindi continuare a coltivarla diventa l'elemento fondamentale per tenerla in vita. Il futuro della montagna passa quindi, sì, attraverso le sue eccellenze e le sue tradizioni, dal pascolo al formaggio, ma anche attraverso un cambiamento di mentalità da parte del turista e del visitatore. Sicuramente il formaggio è una porta d'ingresso molto importante, perché il formaggio che nasce da latte crudo, da latte da erba, è un elemento che distingue il prodotto che nasce in montagna, ma il modo per approcciarsi è anche andare a piedi, quindi avvicinarsi alla montagna in maniera lenta, in maniera anche consapevole, per scoprire la ricchezza che ci può regalare.